Buongiorno a tutti e a tutte, volevo avvisare prima di passare ai saluti del fatto che oggi a moderare l'incontro non sarà più Letizia Mencarini come previsto dal programma, che ha avuto la possibilità di partecipare per problemi familiari, ma Chiara Dalbianco, che è ricercatrice dell'Università di Padova, statistica e lavora nel campo dell'econometria, fa parte del gruppo di ricerca dell'infrastruttura SHARE ed è componente tra le ricercatrici del progetto FOSR e quindi la volevo ringraziare anche perché con veramente poco preavviso insomma si sta prestando a questo ruolo e a nome mio e delle altre colleghe anche dell'IRPS che coordinano questi seminari, insomma che sono Claudia Pennacchiotti e Adriana Valente. A parte questo invece più per chi ci ascolta volevo, forse non è chiaro dal programma, il fatto che si potrà intervenire dal pubblico, quindi dopo le due relazioni ci sarà una fase di discussione aperta e sì ci sono panelisti invitati, però insomma ci farebbe piacere estendere la discussione nel modo più ampio possibile alla comunità scientifica, quindi insomma cercheremo di dare spazio a commenti o domande. A questo punto passerei la parola a Emanuela Reale che è la coordinatrice scientifica di FOSR e oltre che direttrice dell'Istituto IRCRES del CNR. Grazie molto Valentina, molto gentile la presentazione. Io dirò solo poche parole per introdurre il contesto nel quale si svolge questo seminario. La prima cosa da dire è che questo seminario nella forma di webinar è il terzo evento dei cosiddetti FOSR Days, sono tre giorni in cui abbiamo presentato i risultati del primo anno di attività di questo progetto e a questa giornata di presentazione che si è svolta ieri sono stati uniti ai due eventi, una nella prima giornata una policy maker session e oggi invece ho questo online seminario. Allora, il progetto FOSR è finanziato nell'ambito delle azioni del PNRR, azione ricerca, in particolare le azioni sulle infrastrutture di ricerca. Ha come obiettivo quello di creare strutture e risorse per consentire ai ricercatori e anche gli studiosi non accademici di investigare problemi ed argomenti relativi al cambiamento economico e sociale con alcuni topic di particolare interesse come appunto la deconografia e la società, la struttura dell'economia, le politiche pubbliche e i comportamenti sociali. Riunisce in una forma di una sorta di meta infrastruttura di ricerca rispetto a tre infrastrutture di ricerca a base che ne costituiscono l'ossatura e cioè CESDA, la share e RISIS. CESDA è l'infrastruttura relativa alle social science data archives, share è la survey on health, aging, retirement in Europe e RISIS è la research infrastructure di ricerca, cioè Forest Health and Immolation Policy Studies. Ora i webinar, e questa è la mia diciamo così riflessione finale, sono specificamente concepiti all'interno del WP che si occupa di formazione come un elemento per avere un diciamo un spazio di presentazione, di ragionamento intorno a dei topic particolarmente rilevanti. Il tema scelto per questo seminario costituisce un punto chiave nelle realizzazioni del progetto Fosser perché è appunto riferibile alla costruzione dell'Italian Online Probability Panel, uno strumento che quando realizzato sarà una unicità per il nostro paese anche in confronto con realtà che esistono a livello europeo. Quindi è con molto piacere che diciamo inauguro questo seminario, questo webinar, auguro il migliore svolgimento della giornata che io seguirò per intero che sono molto interessata anche agli interventi dei colleghi che sicuramente presenteranno gli sforzi finora fatti e l'importanza di questa iniziativa all'interno delle nostre realizzazioni. Quindi grazie molte. La parola a Valentina e invagino al direttore Mario Paolucci. Sì, grazie. A questo punto passiamo la parola a Mario Paolucci, direttore dell'IRPS del CNR che ha un ruolo importante nel progetto Fosser. Buongiorno e benvenute a tutti e a tutti. Direi che Emanuela vi ha già dato il contesto in cui stiamo operando. Noi con i finanziamenti del PNRR cerchiamo di sfruttare al meglio questa occasione che è una grande occasione di crescita della comunità di ricerca all'interno del paese. Per costruire questo Italian Online Probability Panel un gruppo di ricercatori ha dedicato tempo e sforzo da ormai più di un anno. Come mi capitava di dire ieri, è un anno che ci vediamo regolarmente, una volta a settimana, cercando di mettere insieme le nostre esperienze, le esperienze fatte all'estero, le difficoltà oggettive che si incontrano quando si fa una cosa nuova, una cosa nuova nel panorama italiano, un modo anche nuovo di lavorare per noi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quello che noi vogliamo fare è offrire a questo paese un taglio, un accesso, un occhio, una forma di visione unica nella sua struttura sociale. unica non perché non ci siano strutture violenti, ma unica perché nel contesto del progetto FOSS, dell'Open Cloud per le Scienze Sociali, come la chiamiamo per capirci, nel contesto di questo progetto questa sarà una fonte privilegiata di informazioni su quello che succede nel paese e cosa le persone pensano e come vivono i cambiamenti e le crisi che, come vedete, si succedono vorticosamente una dentro l'altra. Quello che noi faremo e quello che vedrete oggi è lo stato dell'arte del lavoro fatto per creare questa risorsa che noi pianifichiamo vada in funzione velocemente entro la fine del progetto. È una responsabilità nostra di portarla avanti, è una responsabilità condivisa anche a tutti voi che siete in questo momento ricercatori e ricercatrici, tecnologi e tecnologhe, curiosi e curiose che siete collegati in questo webinar per capire che cosa verrà fatto e come usarlo meglio. Perché, come mi capita a dire sempre in queste introduzioni, il PNRR è un'occasione unica di mostrare che l'Europa che costruiamo insieme può essere utile anche a fare ricerca, a lavorare, a migliorare i sistemi dei paesi e questa è un'occasione veramente irripetibile di far vedere che questa cosa sarà utile. Noi cercheremo di costruirla e a tutti quanti quelli che sono interessati hanno il compito di utilizzarla al meglio, in questo caso per la ricerca e per far progredire la conoscenza e per aumentare le connessioni tra di noi. Questo è un altro aspetto che voglio sottolineare, anche ringraziando tutto il gruppo del progetto che si occupa di comunicazione e diffusione. Il lavoro che stiamo facendo qui è un lavoro importante, ma il suo senso è proprio nel dare al sistema ricerca e al paese una cosa nuova che funzioni, perché funzioni questa infrastruttura, quindi deve essere utilizzata, utilizzata per la ricerca. Che cosa poi noi stiamo costruendo verrà adesso presentato nel Building Fossil Probability Panel e anch'io resterò in ascolto e vi auguro un buon proseguimento e restituisco la parola a Valentina. Grazie Mario per questo intervento. A questo punto io lascerei la parola a Chiara Dalbianco per la moderazione delle relazioni e degli interventi dei panelisti successivi. Buongiorno Chiara. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Procedo subito per non perdere tempo alla presentazione dei due speaker che ci introdurranno al tema. Ferruccio Biolcati è professore ordinario di sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca sono principalmente nell'ambito del cambiamento dei valori e il cambiamento religioso. È cofondatore dell'SPS Trends che è un laboratorio di indagine sui cambiamenti sociali e politici e è principal investigator italiano per lo European Values Study e la World Values Survey e membro del comitato scientifico di entrambe queste indagini. Presento subito anche Frank Hines che è stato primo ricercatore presso l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale della Ricerca dal 2001 al 2022. Le sue ricerche sono focalizzate su aspetti territoriali delle strutture, delle dinamiche dei processi demografici e socio-economici e in particolare le migrazioni. Parlerà per primo Ferruccio Biolcati che ci darà una panoramica generale del contesto europeo in cui l'Italian Online Probability Panel si colloca, quindi il contesto delle infrastrutture di ricerca per le scienze sociali e ci presenterà limiti e opportunità di questo ambizioso progetto in cui tutti noi crediamo molto. Mentre Frank Hines si focalizzerà di più, farà uno zoom prima su IOP, sulle fasi di sviluppo del progetto e sulle sfide che ci aspettano. Quindi do la parola a questo punto a Ferruccio. Grazie, inizio la condivisione delle slide. Ok, la questione era, quindi penso che posso iniziare. Allora, buongiorno. Sì, come diceva appunto Chiara, l'obiettivo della mia presentazione è quella di fornire il contesto europeo all'interno, la descrizione del contesto europeo all'interno del quale si situa il progetto dell'Italian Online Probability Panel del CNR. In particolare vorrei descrivere quello che è, come sta cambiando lo scenario delle infrastrutture di ricerca nelle scienze sociali, in particolare infrastrutture survey, e vedere qual è il ruolo che in questo scenario giocano gli online probability panel. Per fare questo, la presentazione è articolata sostanzialmente in quattro sezioni. Dopo aver dimineato uno scenario, cercherò di focalizzarmi su quelli che sono i fattori che spingono per l'innovazione e la diffusione dei panel. Poi cercherò di entrare un po' nel dettaglio, per vedere cosa effettivamente si intende per un online probability panel, e infine cercherò di anticipare qualche riflessione sulle prospettive che si aprono grazie al progetto del CNR, che poi dopo verrà descritto con più dettaglio dal collega Frank Valleci. Allora, a mio avviso, se dovessimo sintetizzare quella che è stato il cambiamento che abbiamo visto, nello scenario delle infrastrutture di ricerca delle scienze sociali in grosso modo negli ultimi vent'anni, dovremmo concentrarci, per quanto riguarda il mondo della survey, in particolare su due aspetti. Da una parte abbiamo i programmi di ricerca a carattere comparato e longitudinale, come può essere l'Unione Europea Social Survey o anche SHARE, che è stato già citato precedentemente, che hanno conosciuto una notevole diffusione, una diffusione veramente notevole sia a livello accademico, ma non solo a livello accademico, sono molto utilizzate anche per la didattica, per il dibattito pubblico e così via. Questa notevole diffusione è andata di pari passo con un processo di progressiva istituzionalizzazione di queste infrastrutture di ricerca. Ad esempio abbiamo le infrastrutture di ricerca ERI, e quindi lì abbiamo ISS, SHARE, che è una situazione legale che per facilita il sviluppo delle infrastrutture di ricerca a livello europeo. Poi abbiamo le infrastrutture di ricerca della roadmap ESP, che è un forum che cerca di aiutare i processi, le politiche, la definizione delle politiche a livello europeo per lo sviluppo delle infrastrutture complessive e anche per le scienze sociali. Qui ad esempio abbiamo, si aggiungono anche il Gender and Generation Program e la neonata survey sui bambini a carattere longitudinale di AI. Infine, sono emerse, diciamo, più dal basso, alcune collaborazioni tra queste infrastrutture di ricerca. Ad esempio, a breve partirà un grosso progetto europeo che vede la collaborazione tra ISS, la European Social Survey e Gender and Generation Program. Un altro esempio è quello di EVS, che da sempre, da un tempo, collabora con WVS. E quindi ci sono queste forme di collaborazione che sono molto importanti perché da questi incroci, quello che si ottiene è l'innesco di processi virtuosi e l'innalzamento di quelli che sono gli standard di collaborazione. Inoltre, il scenario non è fermo, ci sono nuove liste che stanno crescendo, come ad esempio il progetto MEDEM che riguarda l'impresa elettorale e l'antecipazione politica. L'altro trend grosso che caratterizza questo scenario è sicuramente la diffusione dei probability panel. Qui l'esperienza primeristica è stata sicuramente quella del panel list, del center data, che è un spin-off dell'Università di Spielberg, che è partita nel 2007. Hanno fatto seguito poi i paesi scandinavi, ma anche la Germania, dove ci sono al momento addirittura due, panel online e la Francia. Ed è anche qui uno scenario che è in continuo movimento. C'è un progetto belga che è già sul campo, proprio in questo periodo stanno facendo, stanno avendo la fase di reclutamento dei membri del panel. C'è un progetto che sta nascendo in Croazia, quindi ci vediamo anche verso l'estero Europa, e c'è appunto il progetto italiano. Allora, quali sono i fattori che spingono per la diffusione di questo tipo di strumento? Qui di solito ci sono due motivazioni. Allora, la prima è sicuramente dei costi di raccolta dei dati che stanno aumentando. Qui è opportuno sempre per distinguere le diverse modalità di raccolta dei dati, ma se pensiamo al faccia a faccia, che comunque rimane il termine di riferimento, lo standard, sicuramente i costi stanno aumentando, la velocità differenti, però è inevitabile, è innegabile. L'altra questione è invece quella dei tassi di risposta che cavano, che è una questione che lì invece va affrontata con maggiore attenzione, se ne è parlato anche ieri a Roma, perché lì bisogna distingue e tenere conto dei diversi contesti nazionali e soprattutto delle diverse modalità di raccolta. Qui ho ad esempio alcuni dati da mostrarvi. Ad esempio, i dati sui tassi di risposta, questi primi che vi mostro, del share. Ringrazio per questi dati, Chiara del Bianco e Guillermo Weber, che ne hanno forniti. E qui vedete, ad esempio, che rispetto all'inizio, le rilevazioni del 2004-2006, c'è stato un calo, però nelle ultime rilevazioni, poi dopo il trend è invece quello dell'Unione. E soprattutto vediamo che noi riusciamo ad avere, qui stiamo parlando di interviste faccia a faccia, riusciamo ad avere dei tassi di risposta sempre molto elevati, tra il 40 e il 50 e il più per cento. Un altro esempio che vi posso fornire, si citava prima l'esperienza appunto di Trent, che è questo laboratorio finanziato dai progetti di eccellenza dell'Università di Milano Statale, che si è dato come missione quella di favorire la partecipazione dell'Italia alle grandi sardi internazionali. E in questa, diciamo, all'interno di questo laboratorio, ad esempio, abbiamo avuto una direzione scientifica col collega Cristiano Lezzoni, che poi parlerà anche dopo di SS, nelle rilevazioni del 17-19, e poi di SS che poi è finanziata, come sappiamo, da INAP, e poi noi abbiamo invece finanziato la European Value Survey, la World Value Survey e anche l'International Social Service. E anche qui vedete che abbiamo dei tassi di risposta, stiamo sempre parlando faccia a faccia, molto elevati, e se qui abbiamo anche il confronto tra prima e dopo il Covid, vedete se ad esempio c'è stato un calo per ISS, per ISS che addirittura c'è stato un calo. E quindi questo per dire che sicuramente c'è il problema, ma però seguendo certi standard si riesce ad ottenere certi risultati, nonostante questo, però i costi sicuramente per ottenere questi risultati stanno aumentando, e quindi c'è una spinta per i tipi online, probabilmente, l'altra spinta però non è solo dei vincoli, anche dal fatto che l'online tip panel offre delle grandi opportunità, offre delle forti opportunità, che qui ho cercato di sintetizzare. Allora sicuramente c'è l'opportunità fornita dal fatto della possibilità di analizzare il cambiamento sociale, dove qui prendiamo sociali in termini ampi che ti investe dentro di dimensioni demografica, economica, politica, istituzionale, e così via. Altro aspetto, che questo, il probability panel, consente di monitorare quelli che possono essere dei cambiamenti improvvisi, che arrivano, ad esempio, dall'ambito economico, dall'ambito istituzionale. Mario citava prima, appunto, le crisi ricorrenti, e quindi è qualcosa che noi possiamo vedere quella che è la risposta rispetto a queste crisi. E ad esempio, in altri paesi che avevano già dei panel funzionanti durante la pandemia, quello che è successo è che hanno intensificato la frequenza delle rilevazioni, proprio perché si era in un periodo dove le cose potevano cambiare di giorno in giorno, a seconda che delle misure di lockdown fossero approvate piuttosto che abrogate. E quindi, questa è stata una grande risorsa per la ricerca, per i paesi che potevano avere quella, che hanno avuto quella possibilità. Poi c'è la possibilità di utilizzare, di combinare con degli strumenti di misurazione avanzati, come delle api estratte dal cellulare, dei sensori che permettono di avere delle informazioni sulla salute, piuttosto che sulla mobilità delle persone. Ci sono diverse ricerche molto interessanti a proposito. Gli online permettono inoltre di eseguire degli esperimenti, quindi di testare delle domande di ricerca in una logica sperimentale, ad esempio andando a vedere se il frame di una domanda ha un effetto su quella che è la risposta. Si possono utilizzare questi dati che sono molto ricchi e collegarli ad altri tipi di dati, sia di tipo amministrativo, sia di tipo digitale, che è legati a big data e così via. E poi una particolarità, a mio avviso, dell'Online Probability Panel è che si adeguano molto bene a quelli che sono i principi della scienza verde. Su questo poi vi ritornerò a breve. Vediamo quindi quelle che sono effettivamente un Online Probability Panel. Allora, qui possiamo sostanzialmente dire che l'Online Probability Panel è una survey somministrata via web, ok, in CAUI, ok, una survey breve, di solito sui 20 minuti, che però viene somministrata con una certa frequenza, qui c'è una certa variabilità, un mese, due mesi, tre mesi e così via. Ovviamente c'è la questione di coinvolgere chi sul web non è, vi vengono utilizzate altre diverse modalità di raccolta che possono essere il postale, piuttosto che il teleofonico e una caratteristica fondamentale è che il campione probabilistico è che è reputato offline. Quindi, scusate, a differenza, diciamo, della website, dove abbiamo la somministrazione via web e il reclutamento via web, qui invece il cambiamento probabilistico avviene con gli strumenti tradizionali a faccia a faccia, piuttosto che il postale e così via. Ovviamente si tratta di un panel, un problema di attrito, per risolvere il quale, per conquistare il quale, quindi è necessario pensare a delle strategie di aggiornamento del campione nel medio periodo, e la ricerca, su questo tipo di disegno di ricerca, e si concentra molto anche sugli incentivi necessari per assicurare la partecipazione delle persone al panel e c'è chi entri o nel panel e che interbani. Dicevamo prima, appunto, che funziona molto bene in una logica di scienza aperta e questo lo si vede, a mio avviso, molto bene se si guarda ai contenuti, alle domande, al questionario, che queste esperienze che ho citato prima, di solito, è fatto di un core di domande longitudinali che vengono ripetute nel tempo e riguardano i diversi aspetti appunto del cambiamento sociale in diversi ambiti, come possono essere le riguaglianze, la povertà, l'atteggiamento verso la politica, valori e così via, a cui si affiangono una serie di moduli che cambiano sostanzialmente di rilevazione e rilevazione. Le domande, i dati, tratti dalle domande core ovviamente vengono resi disponibili il più fretta possibile, come fanno sostanzialmente tutte le infrastrutture di ricerca e questo è già un aspetto di scienza aperta. Ma la cosa interessante è che il panel può diventare un vettore di raccolte dati di altri gruppi di ricerca, nazionali e internazionali, che possono appunto veicolare le loro domande sul panel in diverse modalità o pagando qualcosa a un costo comunque ragionevole che d'altra parte consente l'assistibilità del progetto del panel, oppure anche l'esperienza di molti paesi rispondendo a delle call for modules, quindi a delle call competitive dove appunto si presenta un progetto e se questo progetto vince, le domande, i dati vengono raccolti gratuitamente per chi ha detto il progetto e tutto questo avviene all'interno di una infrastruttura di ricerca dove ovviamente c'è una grossa attenzione metodologica e quindi c'è anche come dire una forte attenzione sia sul campionamento ma anche sulle domande, quindi c'è un aspetto di consulenza che permette di elevare la qualità dei dati che si ottengono. Per chiudere, questa è l'ultima slide, spero di essere nei tempi. Allora, questo cosa vuol dire questo contesto, cosa vuol dire questo progetto nel contesto italiano? Allora, sicuramente si tratta di uno sforzo come dire, sovrumano. Ieri Mario ne ha parlato nella sua presentazione perché è uno sforzo sovrumano in termini di personale e quindi qui è necessario tutto il contributo che il gruppo di ricerca del CNR è uno sforzo sovrumano in termini economici quindi qui le risorse straordinarie del PNR sono fondamentali. È uno sforzo sovrumano perché è in un contesto come quello italiano che sappiamo come sono le difficoltà burocratiche a cui aggiungerei anche il fatto che nel contesto italiano ancora non si è ben capito quelle che sono le specificità e le esigenze delle infrastrutture di ricerca nel campo relativamente alle scienze sociali e questo rende un po' più difficile ma dall'altra parte se questo sforzo va a buon fine le opportunità che si aprono sono moltissime sul fronte appunto come citavo prima dell'analisi del cambiamento sociale dell'unico strumento tutto ritagliato sulle esigenze del contesto nazionale sul fronte della scienza aperta quindi delle possibilità di ricerche che si aprano per molti gruppi sul contributo che si può dare per a livello nazionale internazionale per aumentare per quelli che sono gli standard metodologici per perfezionarli nel campo della ricerca della ricerca sociale poi può costituire un benchmark per le simili iniziative all'estero ma anche in Italia perché anche in Italia sappiamo non è detto che ci debba essere solo un panel sappiamo che ci sono già dei progetti commerciali di panel probabilistici che possono anche loro beneficiare dal confronto appunto con il progetto del CNR in una logica appunto di confronto tra le due parti altra opportunità dicevamo parlavamo prima appunto e qui ci ricolleghiamo dal punto in cui siamo partiti dei programmi di ricerca di infrastruttura di ricerca comparata all'unico di un'unico ordinale il panel può diventare anche un vettore per appunto questi programmi di ricerca e quindi facilitare la partecipazione italiana a questi progetti e infine un tema sempre più ricorrente è quello della costruzione di un online probabilizzare a livello europeo perché quello che manca al momento è la dimensione comparata e ovviamente qui il fatto che in Italia possa partecipare a questa discussione sulla base di una propria esperienza nazionale sarà qualcosa che è molto utile e che porterà beneficio all'intera comunità di ricerca nel campo delle scienze sociale è finito vi ringrazio grazie ferruccio adesso facciamo uno zoom sull'italian online probability panel aiutati da frank dirigente di ricerca dell'irps prego frank grazie nella mia breve relazione mi vedo più come rapportore del gruppo di lavoro che si riunisce da quasi un anno e discute di aspetti di di tutto il work package di FOSR diretto da Mario e specialmente l'italian online probability panel non sono tanto un esperto di questi aspetti come tutti gli altri colleghi coinvolti colleghi universitari coinvolti ma lo trovo anche come ha già spiegato adesso ferruccio una occasione unica per portare avanti la ricerca le potenzialità della ricerca delle scienze nelle scienze sociali in Italia poi sottolineare questa è la struttura della mia presentazione ripeto quasi un slide per favore scusate se potete mettere off i microfoni perché si sentono dei rumori in sottofondo grazie grazie un po' in un slide gli aspetti già presentati da ferruccio e dopo elenco passo un elenco di aspetti della del progetto dell'italian online probability panel concludo con domande invece con una conclusione questi sono tutti aspetti già generali già toccati un po' da ferruccio ovviamente quello che vuoi io vorrei sottolineare questo aspetto dell'aspetto della infrastruttura non si tratta solo di mettere a disposizione i dati ma quello che alla fine ferruccio ha già sottolineato di dare uno strumento alla comunità scientifica nelle scienze sociali in Italia di far organizzare dei survey delle indagini in modo molto più snello e più probabilmente un po' più scientifico perché spesso se un gruppo di ricerca di esempio di Roma ha l'intenzione di fare un'indagine è ovvio che pensa in primo luogo all'area di Roma ma questo strumento dell'IOP permetterà di avere questo strumento e di fare anche per i piccoli gruppi di ricerca che hanno una, due, tre domande precise di partecipare in questo Italian Online Probability Panel con le loro domande e avere un survey fatto bene in poco tempo allora gli aspetti dell'Online Probability Panel ovviamente ovviamente come dice già il nome il sample dovrà essere probabilistico per motivi ovvi ci limiteremo alle persone adulte di più di 18 anni abbiamo anche preso questo l'età massimo di 75 anni più o meno per due motivi il motivo più importante è che Italia partecipa al progetto all'indagine SHARE già da tanti anni e abbiamo abbastanza dati molto buoni per le persone più anziane allora c'è poca necessità di includere anche quella popolazione anche se è ovvio che in questa fascia di età c'è anche un aumento di problemi di per esempio povertà o disagio legato allo stato di salute eccetera l'altro motivo è visto che un online panel di persone di 70 anni in più 75 anni in più hanno normalmente meno probabilità di essere presenti in rete o di avere i mezzi o l'abitudine di utilizzare internet per il momento abbiamo l'intenzione di includere 30.000 individui nel sample vuol dire che non sappiamo quanto sarà dopo il panel ma partiamo con l'idea è di partire con 30.000 individui questi saranno forniti dall'ISTAT è basato sull'anagrafe nazionale che è curato dall'ISTAT e che l'ISTAT è l'unica istituzione che ha accesso diretto a questo anagrafe non è solo l'ISTAT non in questo caso non è solo un'agenzia che ci fornisce il sample ma l'ISTAT sarà coinvolto o è già coinvolto nella definizione anche delle strategie di tirare questo sample e un aspetto sarà la stratificazione geografica sia per motivi pratici perché le ditte che faranno il il recruitment non possono andare su tutto il territorio e contattare le singole persone per motivi pratici è utile di avere solo certi comuni nel sample e in più la stratificazione geografica porta anche il vantaggio di seguire la tradizione nell'analisi dei dati di fare riferimento ai regioni o a classe di ampiezza demografica dei comuni che è tradizionalmente utilizzato da listate dove c'è tanto già tante conoscenze l'idea è anche di rilasciare la fase del recruitment questo sample in batches che per avere la possibilità di migliorare correggere certi aspetti della fase del reclutamento e il momento che abbiamo i primi ritorni il recruitment process sarà fatto da una una o ditte esterne che c'è il in preparazione il bando per farlo e noi abbiamo l'aspettativa di arrivare a un numero consistente di partecipanti meriamo speriamo in diecimila ma ovviamente non ci sono tanti incogniti non conosciamo la response rate ma speriamo di avere un response elevata le persone saranno contattate individui nel sample saranno contattati con una lettera e una brochure spiegando tutto il italian online propriety panel e ci sarà anche incluso un incentivo incondizionato allora tutte le persone contattate avranno probabilmente un incentivo per creare una relazione di fiducia fra l'italian online propriety panel università cnr e individuo nel fase del reclutamento le domande saranno molto generali ci saranno poche domande in primo luogo aspetti demografici dell'individuo qualche informazione sulla famiglia eccetera ma il punto importante è che ci sarà il consenso consenso di consente che l'individuo consente di essere incluso nel panel un punto già sottolineato da Ferruccio è importante di essere anche lì flessibile anche se si chiama Italian Online Probability Panel vogliamo anche includere le persone che per vari motivi non vogliono partecipare in modo online pensiamo specialmente anche a persone che hanno problemi di diversi tipi in primo luogo anche economici che non non hanno i mezzi di comunicazione online o che hanno altri motivi allora per non escludere per non creare un bias in partenza c'è anche previsto la possibilità di della partecipazione offline questo bias sarà abbiamo intenzione di guardare molto bene questo aspetto del bias per evitare che alla fine abbiamo solo la parte che sta bene nel panel e che escludiamo per disattenzione di le persone che hanno difficoltà economici che hanno altre difficoltà anche per esempio ci sarà un attenzione specifica verso gli stranieri per non perdere per motivi linguistici gli stranieri allora c'è alla fine del fase del ricoltamento c'è momento di riflessione se le persone che sono incluse nel panel a questo punto rappresentano nei limiti che noi conosciamo bene la popolazione che risiede in Italia o se ci sono delle problematiche che la nostra idea possiamo sempre provare di utilizzare dei pesi per correggere eventuali errori sistematici in questa seconda fase della calibrazione del testing ci saranno contattati ci saranno contattati tutti i partecipanti tutti che hanno consentito a fare parte del panel che sarà in primo luogo via cavi così c'è anche il test alla fine funziona che funzionerà e gli offliners ovviamente saranno contattati con altri modi nel gennaio questo anno abbiamo avuto un seminario molto interessante con il rappresentante dell'IS olandese che ha sottolineato un po' almeno questo che io ricordo ha sottolineato l'aspetto umano dell'operazione non si può affidare solo a una procedura via internet via web per coinvolgere queste persone ma che è proprio utile di avere anche un aspetto quasi personale anche se sarà difficile con diecimila partecipanti nel panel conoscere tutti ma lui il responsabile del panel olandese parlava di una collega che conosceva i panelisti in parte in persona e cercava di motivare i panelisti di continuare a rispondere alle domande allora di anche un modo per evitare un troppo attrito nel panel gli altri aspetti credo sono abbastanza ovvi che sulla organizzazione del management system già Ferruccio ha proprio fatto la divisione fra il core dell'internet online probability panel che sono informazioni demografici sul background migratorio che ovviamente per l'Italia è molto importante anche informazioni sulla composizione della famiglia sul stato civile o stato attuale che corrisponda a un stato civile nel passato sull'istruzione a livello di istruzione sulla situazione economica e questo che specialmente il gruppo di Milano sottolinea l'importanza delle attitudini politiche dei valori religiosi eccetera che per me come demografo sono un po' più lontano ma che creerebbe proprio un valore molto importante per questo panel perché tanti comportamenti non sono legati solo a aspetti demografici ma probabilmente molto di più a valori atteggiamenti allora c'è la seconda parte del dell'Italian on a probability panel che sarà con moduli che ruotano che rispera o che saranno richiesti da gruppi di ricerca le università e gli istituti di ricerca su domande specifiche tutto quello che viene rilevato nell'online probability panel sarà messo a disposizione di tutta la comunità delle scienze tutta la comunità accademica nelle scienze sociali e tutto sarà organizzato tramite il DASI e ci sarà solo una piccola differenza probabilmente di qualche mese nel rilascio dell'informazione il core dell'Italian on a probability panel sarà rilasciato subito mentre domande specifiche che sono state richieste da gruppi di ricerche accademici saranno pubblicati solo dopo un certo periodo per dare la possibilità ai gruppi di analizzare questi dati vorrei sottolineare due aspetti di comunicazione che in fondo non siamo ancora così arrivati a questi punti no che c'è primo loro dobbiamo essere coscienti che c'è proprio bisogno di comunicare verso il pubblico generale e specialmente verso i potenziali partecipanti all'online panel a che cosa serve a che cosa serve il panel dobbiamo avere una presenza su internet visto che un online probability panel ci dovrebbe essere anche molto facile dovrebbe essere molto facile di trovarci su internet di spiegare che cosa è il io pepe e ok eccetera deve essere una possibilità riconoscere secondo aspetto delle comunicazioni proprio di anche di fare tanta iniziare a un certo punto la pubblicità verso il mondo accademico della ricerca qua c'è un strumento uno strumento nuovo non solo per prendere i dati per analizzare dei dati che lì ci sono già informazioni come l'Istat tutte le le indagini elencate da da Ferruccio ma che c'è anche ci sono oltre ai dati c'è anche lo strumento di facilitare delle indagini proprie di avere accesso a uno strumento di facile uso con anche con questo aspetto dei consigli di come sviluppare o come fare le domande per esempio in Germania l'istituzione che GESIS fornisce non solo il panel ma fornisce anche delle consulenza come formulare le domande per concludere o prima di concludere con le domande questo è il T vuoi sottolineare che io sono probabilmente il meno adatto con il mio centro tedesco di spiegare tutto il panel eccetera ma sono stato scelto io e non ho detto di no sono contento che potevo farlo ma ho sempre dei dubbi se è un'idea così buono queste sono importanti le università che tutti i colleghi dell'università che hanno tutto questo anno partecipato alle discussioni con che hanno portato le loro esperienze con l'istat ci aspettiamo ancora una fase molto intensa nei prossimi mesi per proprio per creare questo sample ci siamo anche credo aperti a tanti aspetti come ho già indicato nella presentazione ci sono anche tanti altri colleghi di altri istituti che curano più gli aspetti tecnici che io non ho qua menzionato tutto per adesso è un bel gruppo ma per assicurare un futuro probabilmente dobbiamo anche pensare come creare ancora un gruppo più consistente che cura analizza propone migliora questo online propriety panel e ecco per concludere alcune domande che probabilmente già ho menzionato o si intuivano durante la presentazione per me possiamo anche posso anche leggere adesso le domande ma probabilmente non è necessario grazie grazie frank utilizzeremo queste domande questi spunti di riflessione che in parte sono stati già citati sia nella presentazione di ferruccio biolcati che nella presentazione di frank eins per dare un po' di cibo alla discussione che seguirà con i panelisti ci sono appunto dettagli tecnici che sono ancora in fase di definizione come avete potuto capire è una fase la fase di reclutamento che sarà una fase molto importante dell'online probability panel e l'importanza di costruire una comunità scientifica che crede in questo progetto e che lo voglia utilizzare e quindi l'importanza del coinvolgimento della comunità scientifica e la sostenibilità nel lungo periodo dell'internia online probability panel se possibile lascerei ecco questi spunti di riflessione che Frank ci ha fornito e procederei con a video intendo e procederei con presentare brevemente i panelisti che ci aiuteranno nel confronto e nella riflessione in questa fase del nostro webinar Nicolò Cavalli ricercatore presso il dipartimento di scienze sociali e politiche dell'università Bocconi che si occupa di comportamenti sociali e politici e di cambiamenti tecnologici e demografici poi abbiamo un gruppo di ricercatori dell'IRPS CNR Loredana Cerbara un statistico che si occupa di metodologie statistiche applicazioni della statistica a dati di popolazione Massimiliano Crisci demografo si occupa di mobilità territoriale Nicolò Marchesini statistico che si occupa di analisi statistiche quali e quantitative e di pianificazione di indagini in campo sociale e Angela Paparusso demografa che si occupa di immigrazione e di politiche di integrazione abbiamo poi Cristiano Vezzoni professore ordinario di sociologia presso l'università di Milano e la sua ricerca si occupa di studio dell'opinione pubblica e metodi e tecniche di ricerca quantitativa e coordina il laboratorio SPS Trend che abbiamo già nominato in precedenza e Guglielmo Weber professore ordinario di econometria presso l'università di Padova la sua ricerca si occupa di consumo risparmio investimento delle famiglie e di economia dell'invecchiamento ed è responsabile dell'indagine SHARE per l'Italia e membro del management board di SHARE Eric chiederei ai panelisti di intervenire liberamente con brevi visti i tempi relativamente estetiche che abbiamo a disposizione abbiamo un'ora intervenire brevemente con delle riflessioni su quanto è emerso le presentazioni o delle domande degli spunti di riflessione suggerirei di farlo per alzata di mano se riusciamo a gestire la cosa magari Valentina mi aiuta e suggerirei invece all'audience che ovviamente può partecipare se ha domande in prima battuta di scriverle in chat perché questo ci aiuterebbe a gestire l'interazione ed eventualmente appunto a dare poi risposta o comunque ci rimarrebbe traccia degli spunti emersi ho due mani alzate una di Guglielmo Weber e una di Cristiano Mezzoni intanto bene allora mi sembra che per primo ho alzato la mano Cristiano quindi darei la parola a questo punto a Cristiano e poi a Guglielmo va bene grazie 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 dell'organizzazione di questa giornata che mi sembra molto utile e delle belle presentazioni che abbiamo visto sono state molto esaustive e ricchi di spunti io prenderei molto velocemente partirei proprio dall'ultima domanda che vediamo a schermo e questa domanda tocca un punto che è stato ripetutamente menzionato che è quello della sostenibilità e per sintetizzare molto quello che voglio dire la sostenibilità può essere pensata sotto tre punti di vista uno quello della capacità del panel probabilistico di avere una vita lunga nel tempo cioè la sua resistenza o resilienza di lungo periodo il secondo aspetto importante da tenere in conto è quanta domanda ci sarà dal punto di vista della comunità scientifica quindi adesione e il terzo punto è quali sono i criteri secondo i quali noi valutiamo questa sostenibilità per quanto riguarda il primo la vita di lungo periodo del panel mi piace proprio prendere quell'elemento che Franca ha citato del human touch e rivolgerlo al panel nel senso di dire che un panel probabilistico di questo tipo è proprio come un organismo vivente che deve continuamente essere mantenuto deve essere continuamente ritoccato sistemato e portato avanti nel tempo con refreshment con introduzione di nuovi rispondenti e così via proprio come in un corpo dove praticamente il corpo rimane stabile attraverso il tempo ma le cellule vengono sostituite e vengono rinnovate per cui questo è un elemento importante lo sottolineo perché la possibilità di avere questa resilienza di lungo periodo è funzione di come il panel viene progettato oggi cioè le scelte di progettazione che noi facciamo oggi del panel e di costruzione dell'infrastruttura avranno un grande impatto per quanto riguarda la sua vita e l'orizzonte temporale di lungo periodo il secondo punto è quello dell'adesione da parte della comunità scientifica e qui sono già state indicate le grandi opportunità che darà soprattutto quei ricercatori quei gruppi di ricerca e quelle ricercatrici che magari non hanno a disposizione in grande budget e la cosa che ci ricordava Marcel Das di LIS è che in principio se questa infrastruttura funziona e darà la possibilità di accedere ai dati a tutti i ricercatori e le ricercatrici che vorranno tendenzialmente si potrebbe costruire una completamente nuova ricerca aggiungendo semplicemente una o poche domande perché tutte le informazioni che ci servono per studiare un determinato fenomeno un determinato valore una determinata opinione sono già disponibili nelle raccolte precedenti noi abbiamo avuto delle esperienze in passato come National Action Study per le ricerche elettorali di aprire delle piattaforme e raccogliere l'adesione dei ricercatori e devo dire che la risposta è stata veramente molto positiva e siamo riusciti a trovare molto interesse quindi sottolineo questo elemento soprattutto come servizio alle giovani generazioni di ricercatrici e ricercatori quindi questa è una grande opportunità l'ultimo punto che è quella della sostenibilità il precedente passo era quella della sostenibilità finanziaria perché questi interventi porterebbero risorse al panel in termini di contributo l'altro però elemento fondamentale della sostenibilità è quello dell'impatto dal punto di vista scientifico e culturale e qui basta nominare la parola che informa tutto il progetto FOSR che è quello di Open Science e cioè questa idea del fatto che queste infrastrutture devono servire a rafforzare la condivisione delle informazioni che si utilizzano per fare ricerca l'apertura di queste informazioni l'accessibilità diretta a queste informazioni e in ultima istanza io voglio perorare la causa di questo Italian Online Probability Panel in termini proprio di un'opportunità di sviluppo culturale del dibattito pubblico italiano sia dal punto di vista della comunità scientifica ma anche dal punto di vista del policy making e dei cittadini che grazie alla disponibilità di questi dati di maggiore qualità si potrebbe arrivare effettivamente ad avere un dibattito pubblico maggiormente che riconosca maggiormente l'importanza dei dati di qualità e che fosse informato da questi elementi empirici tutto questo sarebbe un arricchimento penso anche dal punto di vista degli istituti di ricerca che già molto bene operano sul nostro territorio perché poi questo sarebbe una spinta a tutti per portare più in alto l'asticella grazie grazie cristiano darei la parola a Guglielmo grazie Chiara e grazie ovviamente ai relatori che ci hanno fatto un'introduzione molto molto utile io volevo partire forse dall'ultimo punto che ha sollevato cristiano cioè quello della sostenibilità io vale la pena ricordare che l'internet panel nasce grazie al Next Generation EU cioè grazie al PNRR grazie al fatto che per la prima volta dopo tantissimo tempo ci sono fondi per ricerca importanti purtroppo a tempo la sostenibilità finanziaria quindi è un aspetto ma un punto che mi fa molto piacere e che vorrei portare l'attenzione di tutti è che da parte del CNR da parte dei gruppi di informazione del CNR c'è una disponibilità a lavorare per costruire un software che sia appartiene dall'Inline Survey che però sia di fatto che non richiede l'intervento esterno e che quindi possa essere mantenuto e modificato nel tempo questo sembra essere questo impegno diciamo di lungo periodo del CNR è la miglior garanzia che ci sarà una sostenibilità anche tecnica e quindi perché la parte informatica è cruciale quindi questo mi sembra un punto oltre a quelli che dicevano Cristiano che sono corretti cioè l'importanza di avere un'adesione e sul piano dell'adesione io stamattina facevo prima di questo panel facevo una lezione e una lezione era sull'argomento della fiducia alla partecipazione ai mercati ai mercati finanziari da parte delle famiglie e la fiducia viene gli economisti che sono potenziali utenti dello IOP sono molto aperti ad utilizzare domande tipiche del mondo socio-demografico più sociologico più demografico socio-politico anche quindi c'è un grande interesse per parte degli economisti che un tempo guardavano soltanto ai fatti ora anche alle opinioni e questo può rendere ampliare la platea al di là di quello che è più ampio e la platea dei colleghi delle materie socio-politiche infine fatemi dire due cose minime una utilizzo la condizione dello schermo sperando che funzioni in prima battuta penso di sì credo a questo punto dovreste vedere un articolo che è stato pubblicato su Nature del 2021 questo articolo su Nature del 2021 è interessante spiega perché noi vogliamo un probability panel non semplicemente un'indagine grande quello che è stato osservato utilizzando delle gigantesche indagini americane vedete questo Delphi Facebook e il Census House of T-Pers che malgrado l'enorme campione c'è stata una sovrastiva molto elevata del T-CAP della vaccinazione e questo ovviamente perché non sono campioni probabilistici il paradosso interessante è che un piccolo pano di mille respondents che hanno fatto meglio in termini della somma del quadrato della distorsione più la varianza quindi la varianza di questi enormi campioni va a zero purtroppo convergono numeri sbagliati e quindi è molto importante avere un probability pano questo è un punto importante che spiega perché insistiamo su questo aspetto qua e ovviamente è molto più facile avere un probability pano se il tasso di risposta è come quelli dimostrati da Ferruccio 40-50 ideale sarebbe non solo occorre avere programmato bene il sampling design ma bisogna anche avere dei numeri che siano non irragionevoli e restando sulle cose che mi piacerebbe mostrare un secondo è che la situazione è molto migliorata per quanto riguarda per quanto riguarda l'uso di Inter da parte delle persone anziane noi abbiamo detto ha detto Frank che per il momento ci dimitteremo a un campione fra i 18 e i 75 anni ma la pandemia è stato un game changer cioè ora praticamente i giovani anziani diciamo fino ai 75 certamente l'Italia è molto indietro su questo aspetto c'è stato un salto importante e naturalmente il fatto che si va verso un mondo di telemedicina sempre più diffuso renderà ancora più probabile che a regime in fra qualche anno anche la popolazione di una certa età sarà molto facilmente raggiungibile attraverso metodi come CAUI rispetto a quello che era il pre-pandemia quindi questi sono due messaggi che volevo dare e diciamo per valorizzare le scelte che sono state fatte che pienamente condivido ho molto appresato le lettazioni e Frank è stato molto bravo a spiegarci anche i dettagli di come si parte ma ecco dove si arriva al mio giudizio è un contesto in cui abbiamo questo campione probabilistico che in larghissima misura risponde via internet e che ci consente in tempi brevi di soddisfare una domanda che speriamo crescente da parte dei colleghi che non sia soltanto legata a fondi grossi ma anche a fondi piccoli cioè io ho un print in cui ho messo 30.000 euro per chiedere 10 domande ora come ora non potrei farci nulla dopo posso finalmente grazie all'interna posso mettere queste 10 domande e 20-30.000 euro massimo riesco a avere un campione probabilistico che risponde a queste domande grazie e buon lavoro a tutti grazie chiaro in ordine di prenotazione sarebbe Nicolò Marchesini Mazziniano Crisci Nicolò Cavalli poi valuta tu se fare un blocco di interventi fare una pausa nel senso per i relatori insomma vedi tu ok sentiamo diciamo Nicolò Marchesini e poi do la parola a Ferruccio e a Frank per ritornare su questi punti se hanno dei commenti grazie Chiara grazie per gli spunti sia degli speaker che di Cristiano e di e di Guglielmo perché parto in qualche modo da quello che hanno illustrato loro e rispetto alla sostenibilità e credo che una sfida che avrà IOP sarà proprio quella di coinvolgere quelle fasce di popolazione che sono a rischio di partecipazione con uno strumento simile quanto Guglielmo ci ha detto sul recupero in qualche modo della partecipazione digitale e dell'utilizzo di internet da parte della popolazione anziana in Italia è qualcosa che mi fa molto piacere però penso che ad esempio una delle sfide sia la copertura per le cosiddette aree interne dove sappiamo che le infrastrutture per internet sono più deboli e quindi l'utilizzo di tecniche miste forse possono aiutare ad andare a coprire tutte quelle zone che potenzialmente rischierebbero l'esclusione così come fasce di popolazione con un livello socio economico basso perché è vero che strumenti come Whatsapp Facebook vengono utilizzati in maniera trasversale è anche vero però credo che la partecipazione costante in un panel richieda uno sforzo ulteriore e parte di questo sforzo nasce anche dalle competenze che le singole persone possono mettere in gioco e rispetto alla sostenibilità invece in termini di criteri e mi ricollego all'ultima parte dell'intervento di cristiano penso che una delle potenzialità che avrà IOP quando sarà funzionante sarà proprio quella di permettere di studiare gruppi di persone che ad oggi in qualche modo sono nascosti se pensiamo a approcci quali all'intersezionalità e io mi occupo anche di genere e quindi è un approccio cui tengo tanto permette effettivamente di evidenziare di studiare gruppi che vivono differenti svantaggi e che non è detto che nelle statistiche ufficiali questa molteplicità di svantaggi emerga penso che uno strumento come IOP possa essere importantissimo proprio nell'integrazione delle fonti ufficiali coprendo aspetti che magari ci sono ma è più faticoso in qualche modo far emergere e studiare in maniera dettagliata e quindi penso che anche in termini di contenuti possa portare davvero una rivoluzione in quello che è lo studio della popolazione in Italia e l'impatto ad esempio in termini di politiche pubbliche grazie grazie Nicolò allora prima di dare la parola a Ferruccio e a Frank facendo sintesi i grandi aspetti che sono stati toccati in questi primi tre interventi riguardano il macro tema della sostenibilità e vari aspetti legati ad esso l'importanza dell'aspetto probabilistico di questo panel e internet e il ruolo che può giocare in termini appunto di raggiungere una certa fascia della popolazione e anche il limite che può rappresentare in termini di disponibilità di connessione o di competenze nell'utilizzo di internet e più in generale il fatto che vorremmo un campione rappresentativo dell'intera popolazione e quindi raggiungere anche quelle fasce che spesso sono difficilmente raggiungibili e intercettabili commenti su questo da parte dei due relatori io sarò telegrafico appunto perché poi penso che sia molto opportuno poi lasciare il più spazio possibile ai diversi interventi no mi ha fatto molto piacere appunto che si sia parlato del tema della sostenibilità che si sia sviluppato questo tema in modo di articolarlo ulteriormente nei vari aspetti perché penso che appunto sia un aspetto centrale della della questione ho trovato anche il riferimento all'articolo in Nature che di è stato molto utile appunto perché per non dare per scontato poi appunto la questione del carattere probabilistico che è sicuramente un aspetto centrale del del progetto e che poi permetterà poi dopo anche su questa base di avere anche dei confronti con altri tipi di strumenti a partire dai panel non probabilistici che poi sono parte del progetto FOS e quindi da questo punto anche su questa relazione penso che il progetto FOS avrà la possibilità di dire qualcosa infine condivido molto quanto diceva Nicolò appunto sulle diverse sezioni della delle diseguaglianze che possono costituire costituire un problema per la partecipazione al panel e qui effettivamente la scelta in fase di progettazione di avere una seconda fase di calibrazione del panel che ci permette come diceva poi già anticipava già Frank che ci permetterà permetterà al progetto di tenere conto di questi di queste possibili distorsioni dei possibili problemi e penso che sia una scelta qualificante del progetto grazie grazie posso solo aggiungere al commento perché sono d'accordo con la sostenibilità di Cristiano e Dugliano erano già molto chiare non c'è niente da dire da parte mia Nicolò volevo sottolineare sono completamente d'accordo probabilmente aggiungerei che non è tanto l'aspetto o c'è l'aspetto socio-economico io vedo molto l'istruzione o anche le possibilità di comprendere e di esprimersi in scritto che è un livello di istruzione che ci possono essere diversi anche diversi motivi dietro c'è proprio il problema del tempo che la persona che ha varie difficoltà anche quelle proprio di povertà non ha tempo a disposizione per rispondere o per prendersi in carico anche un'indagine che può essere anche impegnativo se si ripete cinque volte all'anno ma c'è l'aspetto dell'istruzione la capacità di comprendere domande di rispondere correttamente che specialmente se web-based diventa importante adesso non visto che anche io sono straniero non voglio dire che gli straniere non capiscono in generale ma c'è ancora specialmente per la popolazione straniera c'è il rischio più elevato di avere difficoltà di comprendere e può darsi neanche difficoltà ma non voglia esporsi e la stessa cosa anche per non vedo tanto le aree interne in sé come un problema ma più livello di istruzione le persone che non hanno finito le scuole dell'obbligo probabilmente non sono tanto in grado di rispondere a qualcosa web-based o potersi anche in persona basta grazie e massimiliano crisci eccomi grazie chiara grazie a ferruccia franca intanto per l'esposizione devo dire chiara sintetica di progetto di grande complessità e ambizione devo dire in verità il franca alla fine ci ha lasciato con una serie di domande che appunto io non ho l'ambizione di andare a tentare di rispondere ma piuttosto diciamo risollevare qualche quesito che appunto le relazioni mi hanno mi hanno posto diciamo mi hanno appunto sollevato sono parecchi diciamo cerco di condensare in un paio di osservazioni tutto allora intanto ho trovato interessante nella presentazione di Ferruccio l'illustrazione dei pesi delle ampiezze dei panel di alcuni paesi che già hanno avviato i loro online panel trovo curioso il fatto che la Svezia e la Norvegia abbiano delle ampiezze delle numerosità di 10-16 mila intervistati e la Francia e la Germania di 2 mila 5 mila intervistati quindi ecco mi domandavo un pochino con questa come dire con questa variabilità diciamo cosa poi si riesce andare con questa ampiezza di panel cosa si riesce poi andare a coprire e in particolare se nel caso dell'Italia il paese insomma sappiamo con una profonda eterogenità territoriale quindi a livello urbano fra cori urbani corone piuttosto che aree rurali montane via dicendo non parlare della cleavage nord-sud ecco partendo da un campione di 30 mila persone stratificato avendo come obiettivo 5-10 mila panelisti ecco mi chiedevo in che misura poi sarà possibile tener conto poi ecco di questa profonda eterogenità e anche alla luce diciamo ecco delle esperienze di paesi analoghi al nostro come appunto Francia e Germania vedevo addirittura 2-3-5 mila intervistati un altro aspetto legato sempre diciamo alla numerosità del panel ecco appunto ci saranno numerosi topi che verranno considerati via via nelle waves mi chiedevo e in particolare ci sarà una prima intervista sul questionario diciamo la parte intervista core diciamo che forse includerà anche domande retrospettive che potrebbe essere particolarmente impegnativa diciamo non so adesso sulle durate ecco se già si è ragionato delle interviste stesse quindi mi chiedevo se quali sono come dire le strategie di conservazione e come dire anche di sostituzione del campione di fronte ai rischi di appunto di stress nei confronti degli intervistati appunto è qualcosa che trovo preoccupante diciamo ecco a fronte della possibilità che poi il panel monti diciamo a 5.000 intervistati e insomma in tal caso a 5.000 partecipanti in questo caso ecco ci sarebbero ulteriori difficoltà via via poi a sostituire diciamo a mantenere quindi poi una rappresentatività minima necessaria per garantire l'eterogeneità di cui parlavo prima due spunti rapidissimi due quesiti proprio flash per quanto riguarda la cittadinanza e il paese di nascita se pensavate c'è in che modo di considerarlo nell'ambito poi della stratificazione del campione e se poi anche alla luce dell'esperienza di altri paesi poi nel panel ci sarà modo poi di utilizzarla come variabile in qualche modo diciamo ultima curiosità di cambiare esidenza che verso un altro comune italiano o verso l'estero cioè si perde lo seguiamo lo seguiamo solo all'interno dei confini nazionali ecco mi fermo qui per lasciare spazio agli altri grazie grazie Nicolò Cavalli grazie Chiara grazie a tutti solo ricollegandomi in questo subito a quest'ultimo intervento anche io sarei curioso di di Massimiliano sarei curioso di sentire il ragionamento dei nostri panelist non solo dei relatori ma dei panelist in generale su questa cosa del cambio residenza e della migrazione all'estero che è un fenomeno assolutamente difficile da studiare ma che con i mezzi di un online probability panel potrebbe in realtà essere forse credo potremmo essere uno dei primi una delle prime esperienze in grado di seguire persone che si spostano da un paese all'altro e quindi migranti una cosa che poi ovviamente tocca delle fasce della popolazione in Italia particolarmente importanti da studiare come giovani studenti e particolarmente a volte difficili ma che sono appunto quelle più esposte ai mezzi digitali quindi potenzialmente anche alla partecipazione a questo online panel quindi solamente per ringraziare Massimiliano e rafforzare questo punto e chiedere quali sono le idee da questo punto di vista dopodiché molto brevemente se posso Chiara volevo dire tre cose la prima ovviamente ringraziando non solamente il partecipante a questo panel ma tutto il gruppo di lavoro perché rispetto a quanto detto da Cristiano Vezzoni è vero che se tutti i progetti partono così come ci siamo detti e grazie al lavoro di oltre un anno di questo gruppo siamo potenzialmente di fronte ad una nuova fase della ricerca sociale in Italia quindi volevo sottolineare quella che era posto in gioco che non è solamente buona ricerca ma anche buon dibattito pubblico buona democrazia quindi è assolutamente una posta in gioco alta e che riprendendo alcune riflessioni di Guillermo Weber quando si parla del fatto che non a caso questo questo sforzo sta all'interno del PNRR comunque di un investimento sul sistema Italia e questo abbiamo parlato di accesso all'online di vari gruppi sociali cioè per esempio migranti fuori dall'Italia ma anche verso l'Italia anziani ma volevo aggiungere un'ulteriore dimensione che è quella geografica in un paese in cui ovviamente ci sono forti disparità nell'accesso alla rete e qui proprio il fatto che nel PNRR si pensa ad un obiettivo di 100% digitalizzazione credo entro il 2026 quando si parla di calibrazione del panel forse potrebbe avere senso pensare a come nuove aree geografiche dovrebbero accedere a internet quindi dovrebbero essere digitalizzate e quindi poter fare nuovi round di come si può dire ricerca di panelist all'interno di queste aree quindi pensare sinergicamente rispetto a quello che è lo sforzo generale del sistema paese inoltre ultimissima cosa scusatemi se sono un po' un po' lungo ogni volta che io penso alle service penso sì a chi domandiamo ma anche a come domandiamo e quindi mi viene in mente questa cosa credo che la prima opera per televisione sia stata prodotta nel 51 da un italiano per un italiano Giancarlo Menotti ma prima le opere per televisione venivano fatte mettendo una telecamera in uno studio radio dove le persone cantavano quindi era un'opera non prodotta per la televisione però era resa in televisione mi sembra che molto spesso come scienziati sociali andiamo in un mezzo nuovo che è web con i metodi di survey precedenti quindi una lunga lista di domande che è molto pesante dal punto di vista di user experience e prende tanto tempo quando in realtà potremmo pensare a domande diciamo qui non posso condividere il mio schermo ma semplicemente a domande più puntuali magari e anche più puntuali nel tempo rispetto ad una lunga survey con joint experiment che possono essere piacevoli anche dal punto di vista dell'esperienza dell'utente e soprattutto permettere a persone di per esempio rispondere a più domande e persone rispondere a meno domande quindi avere una sorta approccio wiki all'informazione prendiamo più informazione possibile dopodiché valutiamo noi perché l'inferenza si fa sempre appunto da un punto di vista da un campione probabilistico come utilizzare questa informazione avevo un paio di cose da far vedere qui ma non sono rilevanti e quindi da questo punto di vista anche la partecipazione qui chiudo di nuovi ricercatori con l'open call e quindi in generale essere dinamici creativi dal punto di vista del come fare domande secondo me e aprirsi a nuove idee anche di open science secondo me sarà sicuramente un elemento fondamentale per il successo di questo panel quindi queste erano le mie due tre considerazioni a chi domandiamo PNRR come domandiamo quindi domande che non siano magari i lunghi questionari ma immaginare sistemi antinformatici differenti e che possano rendere piacevole partecipare quindi è un altro punto già toccato e infine la posta in gioco che mi pare comunque molto elevata e molto importante tutto qua grazie grazie prima di dare la parola ad Angela e a Loredana darei ecco la possibilità a Ferruccio e Frank di ribattere abbiamo l'aspetto della numerosità e quindi l'eterogenità che abbiamo visto nella presentazione di Ferruccio come poi in termini di numerosità di campioni degli online panel come si traduce poi in tipo di domande a cui possiamo rispondere e l'aspetto dello stress del panel che ben si collega che ben collega quanto detto da Massimiliano a possibili strategie per alleviare questo stress del panel suggerite da Nicolò quindi usare metodi nuovi assieme al web e non le solite la solita struttura che abbiamo in mente noi di indagine capi e la questione di come seguire i rispondenti se abbiamo già in mente chi migra all'estero e poi c'è l'aspetto della chi ha cittadinanza non ha cittadinanza italiana se c'è se è pensato una se pensiamo che il campione possa essere rappresentativo anche per questi gruppi e quindi se si possa fare ricerca specificamente su questo gruppo Ferruccio e Frank a voi la parola sì allora cercherò sempre di essere breve appunto per lasciare poi dopo anche la parola sentire altri contributi che sono tutti molto interessanti allora sulla questione della numerosità lì sì lì c'è il confronto come dire perché lì per valutare la numerosità del campione ovviamente c'è la c'è la dimensione di un paese ma poi dopo ci sono appunto altri quelli che possono essere gli obiettivi e quindi quanto si può si vuole andare a quello meno specifico a livello di sottopopolazioni e così via e qui da questo punto abbiamo già detto che c'è una particolare attenzione rispetto alle sottopopolazioni infatti lo sforzo ci sarà lo sforzo massimo ed è stato già abbiamo già parlato anche all'interno del gruppo se vi ricordate c'era stata una prima ipotesi con campioni più piccoli che poi invece abbiamo cercato di aumentare in modo tale da arrivare ad un campione effettivo molto elevato poi volevo aggiungere due cose allora una secondo me che va stressata molto importante una parola che tiene assieme poi alcune delle cose che abbiamo detto è appunto il termine innovazione cioè il panel oltre essere uno strumento di ricerca che si come dire adegua molto bene ai principi della scienza aperta è anche uno strumento di innovazione perché se non spesso si fa innovazione in un panel è difficile avere dei luoghi degli altri contesti di ricerca dove uno si possa permettere questa innovazione quindi sarà un luogo aperto all'innovazione sia sul fronte appunto delle domande come succede come suggeriva Nicolò che riguardano appunto questo nuovo modo di porre le domande ma anche rispetto a prospettive di ricerca che non si pensava all'inizio ad esempio questa attenzione sulle migrazioni potrebbe essere questo sarà qualcosa che potremmo valutare ci sono tanti demografi nel gruppo quindi sarà una cosa che poi dopo potremo valutare se può essere uno strumento per studiare particolari tipi di migrazione questo tra l'altro mi permette di sottolineare un punto che prima mi sono dimenticato come aveva sollecitato Guglielmo che il panel si presenta anche uno strumento per le scienze sociali ma appunto molto ampio dove possono trovare spazio la sociologia l'economia la scienza politica l'emografia e altre e questo si riflette anche nel gruppo di ricerca sia del CNR sia delle università che collaborano che sono molto variegate da questo punto di vista quindi in termini appunto di apertura e di eterogeneità penso che sia un altro dei valori aggiunti del panel grazie grazie io ho poco da aggiungere sulla numerosità siamo è anche un proprio un aspetto molto pratico che non non si fa un investimento massiccio non conoscendo bene il risultato siamo ancora credo siamo oggi all'inizio di un un'avventura siamo ancora in tempo per migliorare e far crescere questo probability panel allora con la numerosità in questo momento non mi preoccupo mi preoccupo più con l'andamento del riclutamento se le ditte esterne saranno in grado di proprio di motivare la partecipazione al panel se riesce a partire il panel per me non so i colleghi per me il maggior interesse è di conoscere per il momento le grandi linee di conoscere i valori importanti non questi un po' di nicchia ci sarà sempre una nicchia che uno strumento come un survey un probability panel non è in grado di afferrare allora sarei già contento di di conoscire un po' le grandi linee di dove va la società che ci sono certi aspetti che non si copre è sempre un rischio non l'online probability panel non sarà mai in grado di rispondere a tutte le domande che qualcuno si può immaginare sulla mobilità certo è un aspetto che noi credo nella discussione non abbiamo mai immerso perché credo che la senza esplicitare ma la nostra preoccupazione è più la mobilità informatica telefonica che qualcuno cambia il numero di telefono o cambia l'indirizzo email e non si trova più il cambio di residenza una volta che qualcuno sta nel panel probabilmente non è così il problema questo dopo nelle domande si anche si chiede c'è stato un cambiamento di residenza c'è stato un cambiamento o a parte dell'età non c'è bisogno di chiedere ma tutti gli altri ci sarà sempre la domanda c'è stato un cambiamento matrimonio nascita eccetera allora questo sulla parte mobilità sulla parte di come fare domande con questo nuovo strumento Nicolò Cavalli ha completamente ragione che lì dobbiamo adattarsi inventarsi anche nuovi aspetti in ogni caso per il momento non c'è mai stata un po' l'idea di fare cose pesanti come si fa in un capi che si fanno lunghi elenchi l'idea è sempre che sul web le cose devono essere snelli 20 minuti mezz'ora è già tanto per tenere interessato le persone trovo anche interessante l'idea di fare arricchire con altri elementi audio video le questionarie sicuramente per sollecitare aspetti sull'atteggiamento i valori può essere proprio una strada interessante grazie grazie una puntualizzazione su questo punto credo che l'aspetto delle idoneità a partecipare al panel anche nelle rilevazioni successive quindi quando un individuo è ancora idoneo a partecipare o meno se vengono meno determinate condizioni sia un aspetto su cui il gruppo dovrà lavorare io porto io porto l'esempio di scel ci sono una serie di cambi di stato dell'individuo che determinano la non idoneità dell'individuo a partecipare nuovamente all'indagine quindi credo che questo aspetto della mobilità sia un aspetto soprattutto fuori dai confini nazionali essendo il nostro un Italian online probability panel rappresentativo della popolazione tra i 15 tra i 18 e i 75 sia un aspetto che dovremo che il gruppo ecco dovrà 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 valutare se posso aggiungere a questa discussione scusa una precisazione che proprio non solo per motivi pratici abbiamo pensato a una stratificazione geografica non escludiamo proprio stratificazione per altri aspetti personali come la cittadinanza che citava ma questa è la probabilità certo darei ora la parola a Angela prima e Loredana poi che credo siano le ultime due persone del panel che devono intervenire prego sì grazie Chiara volevo insomma ci tenevo a ringraziare tutti per questa insomma mi avviso occasione veramente utile importante di approfondimento dell'IOP io ho due brevi domande o comunque due così richieste diciamo di approfondimento che nascono da una slide del professor Biolcati che però appunto rivolgo insomma a tutti a tutto il gruppo ed era appunto quella su i vantaggi o comunque il valore aggiunto degli online probability panels in generale in particolare c'era un punto in cui appunto il professore sottolineava l'importanza di collegare questi panel alle ai survey program cioè alle altre indagini quindi mi chiedevo in che modo ecco questo questa connessione possa avvenire in che modo il panel può valorizzare le indagini esistenti che sono state poi menzionate insomma all'inizio della presentazione in modo pratico ecco praticamente e l'altro aspetto che appunto emergeva sempre in questa in questo elenco di punti era la dimensione comparata allora il professore ci ha detto che l'online probability panel possa fungere da benchmark o comunque ecco da esempio per altri panel e volevo sapere se ecco in questo senso mi rivolgo un po' a tutto il gruppo al di là poi degli standard tecnici di costruzione proprio del panel italiano se per i contenuti si sta pensando si vorrà pensare di creare qualcosa che poi sia effettivamente comparabile con altri tipi di panel questo lo dico in funzione proprio dell'utilizzo poi dei dati anche un po' di incentivazione nella partecipazione a quest'indagine perché insomma credo appunto poi sia uno degli aspetti anche sì importanti e grazie di nuovo grazie Loredana sì io ringrazio perché questa questa mattinata è stata veramente proficua abbiamo potuto tutti scambiarci tante opinioni abbiamo potuto parlare sia della fase di progettazione che è in questo momento ancora attiva sia degli sviluppi futuri e di tutte le potenzialità di questo di questo strumento naturalmente tutte le fasi avranno necessità di persone esperte perché si tratta di qualcosa di insomma veramente grande importante io vorrei tornare un attimo alla questione della progettazione proprio all'avvio dell'IOP e riparlare di quello che ha menzionato abbastanza bene Frank Hines della massimizzazione del response rate nella fase di reclutamento credo che quella sia una fase molto delicata molto importante a cui dobbiamo prestare tanta attenzione perché avere un response rate elevato sicuramente ci diminuisce molto la probabilità d'errore di tutto quello che mettiamo in campo per cui una delle azioni che si possono fare perché anche Ferruccio Biolcati ha detto a un certo punto però tutte queste attività aumentano nel tempo il costo dei panel soprattutto quando sono probabilistici una delle cose che possiamo fare a costo relativamente basso è quello di migliorare proprio nella fase di reclutamento la percezione di autorevolezza che possiamo trasmettere come committenti ai futuri panelisti cioè alle persone che incontriamo e che cerchiamo in qualche modo di reclutare dentro il panel e come possiamo farlo? Sicuramente presentandoci bene e presentandoci in modo chiaro e senza possibilità diciamo di errore di percezione da parte delle persone che vogliamo reclutare perché questo in qualche modo abbatte anche in piccola parte ma tutte le parti sono sempre importanti il bias che si può presentare in questo momento qua in questo momento noi possiamo abbiamo la possibilità di abbattere tutti i bias perché se ci presentiamo con molta chiarezza attraverso per esempio una brochure grafica una brochure grafica che ci abbiamo una immagine coordinata che quindi ci identifica bene e che in qualche modo fa capire a chi vogliamo reclutare quanto siamo seri quanto è importante questa cosa quali sono gli obiettivi qual è il suo ruolo in questa propria impresa chiamiamola così perché una vera propria impresa secondo me questo abbatte un po' il bias soprattutto quelli di status socio-economico anche un po' quelli legati all'istruzione di cui parlava Frank Hines poi abbiamo la possibilità di fare anche un questionario multilingue per quanto riguarda gli stranieri molte delle lingue possono essere sicuramente incluse se utilizzeremo la MSARB come stiamo progettando di fare questa è una possibilità che già c'è e ci necessiterà sicuramente la traduzione ma noi potremmo presentare a ciascun intervistato la sua lingua preferita e quindi questa è un'altra cosa e un'altra ancora è quella dell'utilizzo dei social potremo contattare le persone del panel attraverso anche i social che sono la parte di di internet più utilizzata da tutta la popolazione le ultime stime ci dicono che il 97% della popolazione utilizza i social in qualche modo quindi i contatti anche laddove è più difficile arrivare anche laddove internet sembra un po' più carente noi li possiamo sopperire anche così cioè aumentare i modi di contatto e di somministrazione più possibile per coprire tutte le possibilità che ci sono adesso disponibili e sempre allo scopo di limitare questo bias che non ci che non ci fa bene che non fa bene alla caratteristica probabilistica di questo panel e quindi per concludere anche il ruolo della comunicazione è fondamentale perché la comunicazione deve diventare ancora più pubblica ancora più esterna rispetto agli specialisti quello che stiamo facendo ora è necessario perché ci dobbiamo confrontare e dobbiamo tirare fuori il prodotto migliore possibile ma poi ci dobbiamo presentare alla popolazione che deve partecipare e quindi dobbiamo avere un aspetto pubblico semplice autorevole e intelligibile da parte di tutti quindi questo diciamo più che una domanda è una riflessione ma vediamo cosa hanno da dire i nostri colleghi grazie grazie Loredana prima di dare la parola a Ferruccio e a Frank per un brevissimo una brevissima risposta ecco a questi spunti di riflessione coglierei anche l'occasione per ascoltare la domanda di Emanuela Reale così possono rispondere poi a tutti e tre gli interventi e cerchiamo di rimanere nei tempi e concludere per le tredici io in realtà pongo un punto di riflessione volevo un punto di riflessione avendo ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che danno conto del lavoro svolto in questo periodo di tempo un lavoro importante molto buono che mi conforta e mi rafforza nella convinzione che stiamo facendo qualcosa di importante nuovo e utile io credo che questo panel avrà successo ve lo dico francamente credo che troverà tantissimi problemi una volta realizzato che dovranno essere affrontati con calma e con attenzione mettendo in moto tutte le conoscenze e le esperienze che abbiamo ma ho una visione un pochino più di insieme che mi sembra non sempre si è emersa dagli interventi in alcuni sì in altri no cioè la visione di insieme è che questo è un panel che fa parte di un pacchetto di strumenti che vengono collocati all'interno di un oggetto che si chiama cloud quindi mi stupisce un pochino la parte di Frank nella relazione di Frank che parlava di DASI come elemento di distribuzione perché la distribuzione del panel l'accesso al panel avverrà attraverso il cloud non attraverso DASI quindi bisogna capirsi un pochino quando si scrivono queste cose ma lo dico credimi non è franco una critica è semplicemente perché ho l'impressione che manchi cioè l'elemento sul quale bisognerà lavorare in seguito è l'inserimento del panel all'interno di un sistema di un sistema proprio open cloud per le social sciences ed entrare nel sistema significa lavorare poi per la sostenibilità quindi siccome noi già ci stiamo pensando alla sostenibilità come progetto è chiaro che l'inserimento di questa operazione del panel IOP all'interno di un più generale progetto di sostenibilità mi sembra importante perché dico questo perché fondamentalmente colgo quello che Ferruccio ha detto cioè la necessità di capire e comprendere nel corso dei nostri azioni quale sarà poi la relazione fra il panel IOP e i panel non probabilistici che può andare dal nessuna oppure può andare dal vediamo come questo nostro sforzo riesce a dare risposta migliore alle esigenze connesse alla ricerca nelle scienze sociali poiché come è stato detto il panel probabilistico non è in grado di rispondere a tutte le domande noi abbiamo la possibilità di offrire un complesso di strumenti quindi credo che mentre si lavora intensamente a questo aspetto diciamo dell'OIOP e credo che ripeto si stia andando nella direzione assolutamente giusta si deve contemporaneamente non perdere il discorso di vista il discorso sistemico delle risorse che noi vogliamo mettere a disposizione delle scienze sociali perché lo dico perché è più facile raccogliere finanziamenti risorse aderire a risposte progettuali se si ha un complesso organizzato di risorse da offrire piuttosto che se si va con elementi individuali isolati questa è la mia riflessione per i relatori ma in genere per il gruppo perché secondo me noi su queste cose dobbiamo lavorare proprio come comunità dei ricercatori e dico in prima di lutto come comunità CNR grazie grazie chiedo quindi a Ferruccio e a Frank una brevissima risposta agli interventi di Angela Loredana e Emanuela sì allora io vado in ordine inverso allora ma quello che diceva Emanuela secondo me lì bisogna tenere presente perché c'è come dire c'è il livello appunto dello IOP del panel e probabilmente noi ci siamo come dire abbiamo un po' isolato la sua presentazione perché come dire renderlo più intellegibile appunto perché già di per sé è un progetto complesso poi dopo c'è il livello invece dell'interlazione con il resto del progetto che c'è quella cosa del non probabilistico che si citava che sono tutte cose emerse c'è la questione dell'archiviazione c'è la questione del software del management che probabilmente ora che diciamo siamo in una fase di svolta perché a breve come dire partirà il bando per il reputamento sono questioni che l'affrontare internamente confrontandosi appunto tra i diversi WPI in questa ottica appunto sinergica che dicevamo per il resto sono totalmente d'accordo con quello che diceva Loredana rispetto ai chiarimenti che chiedeva Angela cioè l'idea allora rispetto alle altri programmi di ricerca che può essere un veicolo così come può essere un veicolo per per il giovane ricercatore può essere un veicolo anche per questi programmi nel momento in cui abbiano come dire o ci sia l'opportunità di andare sul campo utilizzando il panel o anche il panel quindi proprio come vettore per la raccolta dati sul fronte della comparazione una volta che avremo a mio avviso come procederei io una volta che abbiamo individuato quelli che vogliamo siano i concetti coperti dal panel la scelta le domande poi potremmo rifarci a quelle più possibili a quelle più utilizzate più di riferimento che poi dopo e te ne andiamo valutando anche la loro comparabilità e quindi già adesso possiamo avere un elemento di comparabilità però ovviamente ragionare la prospettiva di un progetto europeo svilupperebbe completamente le potenzialità della cosa grazie solo per spiegare un attimo ho menzionato DASI perché per me DASI fa parte del progetto FOSRI mi immaginavo che sarà anche DASI quando ho parlato di DASI è più il modo di rendere disponibili dati anonimizzati a tutti in modo molto semplice eccetera e mi immaginavo che DASI farà parte del cloud del progetto FOSRI ma in ogni caso per dire che non per il momento non ci sembra non abbiamo l'intenzione di gestire noi questa parte ma proprio di essere partecipati alle iniziative esistenti di Open Science per le scienze sociali sul commento di Loredana non ho niente da aggiungere è stato molto chiara e spero che procediamo in questa direzione avremo probabilmente poco tempo ma io sono fiducioso per il primo commento di Angela il collegamento del IOP con altre indagini ovviamente non con altre indagini il collegamento non può essere un merge delle informazioni individuali ma può essere solo cercare delle variabili dei chiavi che ci permettono di trovare un aggancio fra diversi diversi indagini un po' un po' è quello che per esempio prendiamo la popolazione non so 65 75 e cerchiamo di trovare delle chiavi che ci permettano di prendere anche l'informazione adesso non chiavi statistici non chiavi indicatori sociali economici o anche di valore che ci permettono di integrare informazioni dall'indagine share per esempio eccetera il merge sarebbe solo possibile ma è solo un'idea di fare un merge con dati eventualmente amministrativi ma questo sarebbe solo una cosa che può fare l'istat e solo per progetti ben definiti questo è tutto futuro speriamo che si riesce a fare quando è utile quando è necessario grazie grazie e ringrazio tutte e tutti per la preziosa condivisione molto ricca di spunti prima di passare la parola a chi concluderà due battute da parte mia che provano a fare sintesi di quanto è emerso allora penso che possiamo andare per parole chiavi di sicuro parole chiave abbiamo parlato di sostenibilità e sembra che abbiamo tutti gli strumenti perché questa possa esserci e c'è stato ricordato l'importanza di inserire il panel in un sistema open cloud per le scienze sociali e quindi di guardare la sostenibilità anche in quest'ottica integrata nell'intero progetto FORCE e poi degli aspetti che credo possano essere anche un po' dei punti di forza che ci aiutano a perseguire con entusiasmo verso il nostro obiettivo andremo a contribuire al dibattito democratico è un aspetto che è emerso un aspetto insito nel progetto è l'innovazione e abbiamo la potenzialità di avere un ruolo nella fase di digitalizzazione del paese visto l'aspetto online del panel quindi mi sembra che questi sono dei punti tra la ricchezza di quanto è emerso che possiamo anche portarci a casa come stimolo a continuare nel nostro lavoro non so se Mario o Emanuela vogliono concludere con i saluti prima di lasciare la parola a Mario ringrazio tutte e tutti poi appunto questo per noi è il risultato di più di un anno di lavoro quindi poi vediamo speriamo di essere stati chiari e chiari nel presentare è chiaro che c'è tanto ancora da da decidere e da fare però spero che si sia vista anche l'importanza che diamo a questo lavoro che penso si percepisca anche nella passione che tutti quanti hanno messo negli interventi quindi vi ringrazio per chiudere a Valentina direi grazie grazie per questi contributi molto ricchi per essere stati disponibili a partecipare l'unica cosa a livello organizzativo vi chiedo se potete poi compilare un questionario di valutazione diciamo dell'evento che ho messo nella chat però vi arriverà anche la mail oggi pomeriggio dal gruppo comunicazione grazie mille io chiuderei qui a questo punto e ci vediamo ai prossimi eventi organizzati da Fostre Grazie a tutti